Sono Eliana Ventricelli, 27 anni, vengo dalla provincia di Bari. Ho vinto le primarie nella mia provincia nonostante lo scetticismo di molti anche del mio partito. Provengo dall'organizzazione giovanile, sono stata segretaria dei giovani democratici nel mio circolo di Altamura e adesso sono membro dell'esecutivo provinciale con la delega alla formazione politica. Il nostro percorso come giovani all'interno del partito è stato molto importante. Con questa elezione noi cercheremo di mettere a frutto, di capitalizzare il lavoro che noi abbiamo svolto in questi anni. Il nostro obiettivo è quello di occuparci principalmente dei temi a noi più vicini che sono quelli della scuola e dell'università ma anche occuparci della buona politica, della trasparenza in politica. Così come abbiamo fatto nella nostra provincia noi cercheremo di portare anche a livello nazionale la proposta dell'anagrafe degli eletti in modo da rendere trasparente quello che è il percorso degli eletti in Parlamento e se fosse possibile anche in tutti i comuni d'Italia.